Bene, abbiamo incontrato un amico veramente speciale, Fernando Navarro, responsabile turismo Gran Canaria e Fernando, Hotel Volver ha appena aperto una nuova sede proprio alla Spalmas in Gran Canaria quindi nessuno meglio di te ci può descrivere qual è la situazione turistica e la bellezza di questo posto incredibile Beh, affortunatamente il Volver si apre di una maniera molto coraggiosa in un luogo proprio di Gran Canaria che di solito non viene molto considerato che è soprattutto la sua parte nord perciò è sicuramente il luogo ideale per iniziare le escursioni, per visitare una parte dell'isola che oltre a tutta la parte valneare offre una parte centrale e una parte nord molto sconosciuta ma veramente spettacolare perciò sinceramente proprio Hotel Volver punta su un altro prodotto che offre l'isola di Gran Canaria che veramente è molto interessante e che sicuramente può soddisfare qualunque tipo di clientela Ecco, oggi il turista è molto cambiato, ormai lo sappiamo perché è cambiato il mercato, è cambiato lo scenario internazionale sappiamo benissimo per quali motivi ma a te vogliamo chiedere cosa cerca il turista in una struttura alberghiera come può essere, non so, un albergo di Gran Canaria o a sud o a nord, anche se ci sono profili molto diversi cosa cerca in particolar modo? Che cos'è importante che un turista possa trovare all'interno di una struttura alberghiera oggi? Beh, la struttura alberghiera alla fin fine, se ci pensiamo bene, quello che offre è il punto di ristoro per coloro che hanno fatto delle escursioni, hanno fatto dei giri eccetera eccetera perciò vuole un punto di riferimento, un luogo di qualità, un luogo dove proprio il riposo, il mangiare poi altre extra come potrebbero essere i centri benessere o i centri sportivi siano disponibili perciò è sicuramente un punto da dove partire per andare a visitare altre cose e al cui ritornare per poi già finalmente rilassarsi e essere tranquilli così perciò un'esigenza con elementi molto chiari ma allo stesso tempo uno standard di qualità che veramente rispecchi quello che si chiede perciò non tanto l'albergo in sé che è anche una cosa molto interessante ma quello che offre la professionalità delle persone che sono lì all'interno della struttura la versatilità di saper dire beh a queste persone devo offrire questo qua ma poi c'è una famiglia che vuole tutta un'altra cosa perciò sicuramente la parte più importante sarebbe qualità, flessibilità e poi ospitalità Canarie è nell'immaginario collettivo un luogo meraviglioso l'incanto, i Caraibi possiamo dire insomma i Caraibi europei esattamente, hai usato la parola proprio giusta e sappiamo che ci sono in previsione grandissimi investimenti dal punto di vista turistico perché ci sono tanti mercati che si stanno espandendo in questa fase tanti nuovi turisti che si stanno affacciando a questo mercato parliamo di Russia, parliamo di Oriente, Estremo Oriente, Medio Oriente, Africa stessa eccetera quindi voi vi state preparando a un nuovo tipo di afflusso anche l'anno prossimo stiamo vedendo di fare cose particolari oltre che i mercati che hai indicato prima per esempio la Turchia e Israele sono anche i prossimi target che andremo veramente a controllare di persona l'isola veramente offre di tutto ha il vantaggio di essere all'interno dell'Unione Europea perciò tutto quello che ha a che fare con burocrazia, amministrazione e sicurezza è appunto quella europea perciò non ci sono problemi da quel punto di vista poi il fatto che essere i Caraibi europei anche aiuta tantissimo perché appunto a poche ore di bollo di tutte quelle che sono le grandi metropoli trovare un luogo tranquillo, sicuro, con buon clima molto versatile, con veramente tantissimo il continente miniatura come viene chiamato con tantissime cose da offrire in pochissimi chilometri sicuramente è tutto a nostro favore e aiuta tantissimo a quello che è tutti gli investimenti non soltanto dal punto di vista belghieri ma anche di operatori, agenzie di viaggio eccetera eccetera che trovano a Gran Canaria una destinazione sicura dove poter investire nei loro affari poi cosa da non tenere in conto il vantaggioso economico regime fiscale che ha le isole con rispetto al resto della Spagna perché bisogna ricordare che da noi non c'è l'IVA perciò tutte quelle che sono le aiuti, investimenti spese fatte in loco eccetera eccetera ovviamente costano molto meno che non altre destinazioni europee che non sono assolutamente cose da sottovalutare in questo periodo noi ringraziamo Fernando Navarro grazie infinite ti rivediamo a trovare sicuramente domani ti aspettiamo al nostro stand per il grande spettacolo che abbiamo preparato anche per voi naturalmente visto che presentiamo le nuove sedi spagnole grazie mille e buon lavoro prego grazie al tuttanto